Amici ben ritrovati, ci siamo continuati a vedere durante la stagione estiva perché so che sono andate in onda diverse repliche di queste chiacchierate di storia locale, ma riprendiamo con questo programma del 2022 che appunto continua delle trasmissioni che ormai sono diventate pare abbastanza apprezzate ma che devono continuare ad essere delle semplici chiacchierate su quella che è la storia, piuttosto questo emittente pare che abbia avuto adesso un allargamento nei propri confini di audience, quindi ai nuovi arrivati, ai nuovi telespettatori la spiegazione che questo si tratta di un appuntamento settimanale durante il quale tracciamo un po' a livello di chiacchierate la storia del Piemonte, del Piemonte orientale, siamo partiti negli anni scorsi anche dalla preistoria e dal Medioevo e che quest'anno concentreremo soprattutto su quello che è stata la storia dopo l'unità d'Italia. L'anno scorso appunto avevamo terminato queste nostre chiacchierate con il 1861, con il momento in cui si è realizzato l'unità politica del nostro paese e come ogni volta è sempre da ricordare che un fatto storico ha un suo precedente, ha una sua motivazione, il perché succedono queste cose e quindi bisogna spiegare anche il fatto precedente perché altrimenti non si riesce a capire quello che è quello successivo, ma il precedente è un precedente e se andiamo avanti di precedente in precedente finiamo alla preistoria, preistoria prima di quando l'uomo ebbe conoscenza della propria storia. Avete ripassato bene? Me lo auguro, stiamo scherzando ovviamente. Quindi dovendo fissare un attimo di un punto e a capo per le trasmissioni di quest'anno direi che se vogliamo partire a raccontare dall'unità di taglia in poi dobbiamo fare un lungo passo indietro e fissiamo perché una data va fissata a una data, il 1743. Come mai proprio 1743? Direi per una serie di motivi. Il primo è che è stato il momento in cui il Piemonte ha raggiunto la sua unità. Con il Trattato di Vorms del 17 settembre 1743 sono stati annessi al Piemonte. L'attuale Vervano Cusiossa, cioè l'Alto Novarese, alcune zone da Lomellina e il Piemonte si è esteso a sud verso il mare raggiungendo con la contea di finale il mare che era l'obiettivo del sovrano di quel tempo che era Carlo Emanuele III di Savoia, re mare di Sardegna perché non era ancora ovviamente re d'Italia e la sua discendenza lo sarebbe poi diventata dopo il 1861. Quindi questo Piemonte che raggiunge la sua unità e che rappresenta per le terre nostre, cioè quelle più vicine all'Alto Novarese, all'attuale Vervano Cusiossola, il definitivo addio al Ducato di Milano. Queste terre che sono rimaste lombarde per molte tradizioni, che sono rimaste lombarde per il proprio dialetto, e per le proprie linee di comunicazione principali che continuano ancora oggi, due secoli dopo, ad essere molto più vicine e più facili con Milano rispetto a Torino, passano definitivamente di proprietà e con questo passaggio sanciscono la definizione territoriale, direi, del Piemonte di oggi. E quindi qui possiamo partire. 1743, inquadriamo però il momento storico e lo dico per chi non ci ha seguito negli anni scorsi, qui si fanno poche date, si raccontano poco, si racconta poco di quello che erano i nomi degli imperatori, dei re, delle battaglie, quelle sono cose importanti sicuramente in storia, ma non sono, secondo me, la storia. La storia è spiegare con parole semplici quello che succedeva soprattutto per la gente comune, quella che subiva anche queste, non soltanto le guerre e le sue conseguenze, prive delle quali, visto che siamo in tema, le pestilenze e le epidemie, ma soprattutto subiva questi trattati e veniva appunto trasferito da un sovrano all'altro, anche perché allora gli stati erano molto più piccoli e che ovviamente non erano interpellati su quello che succedeva. Tant'è vero che quando è arrivato il trattato di Worms nessuno sapeva, dalle nostre parti, vi parlo dalla zona di Verbagna, che avevano cambiato casacca, che avevano cambiato stato, che non erano più nel Ducato di Milano, ma erano nel Regno di Sardegna. Nessuno lo sapeva perché nessuno se l'immaginava, nessuno se l'immaginava, nessuno lo sapeva, anche perché il passaggio di queste terre è stata quello che oggi diremmo una compensazione minore, ben diverso era l'importanza a livello europeo del trattato di Worms, che era stato voluto dall'Inghilterra per sistemare soprattutto i rapporti con Casa d'Austria. E quindi sistemate in termini ovviamente antifrancesi, perché gli inglesi con i francesi nei secoli hanno sempre avuto da discutere fino all'oggi, quindi oggi magari non sparandosi più a vicenda, ma nel passato invece sicuramente sì. Quindi trattato di Worms, nelle cosucce, diciamo così, nelle appendici c'è anche il passaggio della città di Piacenza, di una parte all'Omellina dell'Alto Novarese, insieme a Voghera, al Regno di Sardegna. Per la precisione allora non si parlava di Alto Novarese, si parlava della Contea di Angera. Angera è una cittadina sul Lago Maggiore, nel Basso Lago Maggiore, che aveva un'importanza al tempo, perché in passato era stata sede di Contea, avevamo già raccontato nelle puntate precedenti che cos'era la Contea, che cosa rappresentava, quindi il territorio di quella Contea, che corrisponde all'attuale Verbano Cusios, passo tutto a Casa Savoia. 1743 però, che segnala anche un momento importante nella storia del mondo, non tanto quell'anno, quanto quel periodo storico, perché è il periodo storico a livello europeo, italiano, mondiale, che precede la Rivoluzione Francese. Sono i decenni nei quali i poteri assoluti dei sovrani, all'ora di Repubblica ce n'erano poche, i poteri assoluti dei sovrani vengono messi in discussione, vengono messi in discussione dall'illuminismo, una parola che magari a molti rimane confusa, illuminismo significa illuminare la mente degli uomini, superando l'ignoranza, la superstizione, con la critica e la forza della ragione. Ovvero le persone, parliamo sempre di un'elite, la gran parte del popolo purtroppo era ignorante, era povero, non partecipava né alla vita culturale, era ovviamente analfabeta, non partecipava alla vita culturale e neppure alla vita politica. Ma quelli che oggi diremmo, l'alta borghesia, i nobili, quelli che avevano studiato, cominciano a dire non va più bene che un sovrano comandi come vuole, usando le tasse come vuole, e gli altri obbediscano. E questo è veramente una rivoluzione culturale, prima ancora di avere poi la rivoluzione politica con la rivoluzione francese. Un solo paese in Europa in quel momento, e che infatti rappresentava un po' la punta di diamante di quello che oggi diremmo l'intelligenza, un solo paese, dicevo, aveva già una monarchia costituzionale, ed era l'Inghilterra, la Gran Bretagna, era l'impero che allora aveva la Gran Bretagna, dove il re era oggetto di una costituzione, che era quindi obbligato a rispettare, e dove quindi esisteva un Parlamento, sia pure eletto da una minoranza di persone, ma dove già si discutevano le leggi, e il governo, in questo caso il sovrano, non poteva fare quello che voleva. E di fatti, proprio in quegli anni, stiamo sempre parlando della metà del 1700, in America scoppia quello che poi sarà la rivoluzione americana, No Taxation, No Representation. Se non mi dai una rappresentazione politica, si parlava allora del Parlamento di Londra, noi coloni americani, che nel frattempo da 200 anni, anzi a quel tempo solo da 150 anni, erano passati man mano sulla costa al di là dell'Atlantico, dicevano, se non mi dai una mia rappresentanza politica alla Camera dei Comuni, cioè a Londra, io non pago le tasse, No Taxation. E quando gli inglesi hanno voluto imporre le tasse comunque, i coloni si sono ribellati e hanno dato via alla guerra di indipendenza che sfociò nel 1776, quindi pochi anni dopo il Trattato di Worms, portò alla rivoluzione americana, alla sigla della Carta di Indipendenza e, importantissimo, alla Carta dei Diritti dell'Uomo, dove venivano fissati dei principi comuni, assoluti, in cui ogni uomo e ogni donna avevano dei diritti, molto meno ancora di quelli di oggi, ma erano già il riconoscimento di una individualità, insomma, alla base di una specie di democrazia che poi si evolverà nelle cose. E seconda rivoluzione che scoppia nella seconda parte del 1700, gli albori di quella che sarà la rivoluzione industriale. Ne parleremo molto nelle puntate le prossime settimane perché la rivoluzione industriale in Italia avverrà dopo e avverrà proprio negli anni a cavallo dell'Unità d'Italia e nelle nostre zone, soprattutto nella seconda parte dell'Ottocento, quando questa parte del Piemonte diventa quasi il faro della rivoluzione industriale in Piemonte e in tutto il Nord Italia, per le circostanze e, diciamo, le occasioni di cui poi parleremo. Ritornando quindi a quello che era un po' il bigino delle puntate precedenti, 1743, passaggio quindi di Piemonte nella sua attuale entità territoriale e iniziò di un nuovo modo di intendere i rapporti. La capitale diventa Torino e non è più Milano. Si creano anche molte difficoltà, molte difficoltà economiche perché Milano dipendeva per l'approvvigionamento di tutti i prodotti al di là delle Alpi, ma soprattutto del legno, del marmo, del granito. Vi ricordo che il marmo di Candoglia permise la costruzione del Duomo di Milano e quindi ci fu, dal punto di vista commerciale, una forte crisi di rapporti, diciamo, attualmente sulla linea del Ticino, perché queste zone non potevano più facilmente commerciare con Milano e i milanesi non potevano comprare da questa parte. Anche un problema di carattere monetario, adesso non vado nei dettagli, ma se qualcuno mi aveva ascoltato l'anno scorso spiegai anche le difficoltà monetarie. La lira piemontese aveva un valore diverso dalla lira milanese, però di lire piemontesi da queste parti non ce n'erano, siccome allora non c'erano le banconote. Anche soltanto cominciarono a commerciare era difficile perché mancava la moneta con cui trasferire questi beni. Comunque, diciamo, si avviò questo nuovo regime e devo dire che il Savoia, visto sempre dal punto di vista storico, io cerco di essere obiettivo, poi qui uno potrà essere più o meno favorevole, ma dal punto di vista storico i sovrani, i savoiardi, non furono poi dei cattivi amministratori. Intanto furono gli amministratori seri. Era un piccolo stato, lo stato di Sardegna, si chiamava Regno di Sardegna perché il titolo di Regno sardo spettava di diritto a Casa Savoia che prima erano i conti, poi sono diventati i duchi e poi appunto sono diventati i re acquisendo la Sardegna. Quindi il territorio era il Piemonte, la Lombardia, Nizza è un pezzettino di attuale Francia e la Sardegna, non la Corsi. Quindi questo Regno di Sardegna si dimostrò un regno abbastanza ben organizzato sui canoni del tempo, è ben chiaro, non pensate a delle immagini moderne, in cui noi eravamo proprio però l'estrema periferia, un po' come la Sardegna. Se voi eravate di Torino come funzionario, vi spedivano dall'ora provincia di Pallanza ad amministrare, che so, la giustizia o a fare il viceprefetto, era come essere messi in castigo perché si andava proprio a quelli che erano i confini allora del Regno. Però si stava tutto sommato abbastanza bene, perché? Perché pur essendo uno Stato assoluto, cioè i sudditi non avevano particolari diritti, c'era però una certa sicurezza e questo era molto importante. Quindi le situazioni di banditismo anche grazie alla configurazione del territorio erano relativamente poche, c'era una certa stabilità economica perché i Savoia erano sempre stati molti parsimoniosi, quindi il bilancio dello Stato era in pareggio e il pareggio comunque era controllato abbastanza bene, quindi diciamo c'era una situazione abbastanza florida e quindi le cose andavano abbastanza bene. All'interno del Regno però queste zone erano le più povere, tant'è vero che nel 1868 il Re ha mandato, sotto mentite spoglie, un suo consigliere, il Duca d'Armea gli ha detto senti vai a fare un po' un soggiorno in queste zone nuove, in queste terre nuove che ci hanno dato 25 anni fa, non 25 giorni fa, 25 anni fa, siamo al 68 rispetto al 43, quindi sono già passati 25 anni, più o meno, gli dice vai a fare un po' il giro, poi in relazione a me. E il racconto di Ormea che viaggia da tutte le parti e visita le valli dell'Ossola e visita i paesi del Lago Maggiore e poi se ne va per le terre dell'Agonia e poi va in Valsese, fa tutto un giro molto dettagliato e stende un rapporto che è ancora conservato nei musei a Torino in cui a leggerlo c'è veramente da rimanere un po' sbigottiti, le condizioni erano di grande povertà, i paesi erano anche soggetti a delle vessazioni locali diciamo contro la legge, insomma la relazione di Ormea è decisamente critica per quanto riguarda il funzionamento dello Stato, però dagli anni successivi le cose un po' migliorano e quando sembrano ravviarsi a una certa normalità che ti succede in Francia? La rivoluzione francese. In Francia la situazione era molto peggiore che da noi, c'era un re assoluto, il solito Luigi, in quel momento era sedicesimo, che imponeva tasse, che manteneva una corte incredibilmente ricca e spendacciona in quei di Versailles, manteneva il popolo alla fame, soldi in cassa non ce n'erano più, aumentavano sempre di più le tasse e soprattutto c'era un potere assoluto, come vi dicevo, comandava il sovrano e gli altri ubbidivano. E il malcontento non era soltanto del popolo, il popolo potete bastonarlo e più o meno magari, specialmente a quei tempi, stava zitto, ma il malcontento stava nelle classi medie, dei commercianti, dei borghesi, di quelli che erano un po' più ricchi della media e che si lamentavano, si lamentavano perché lo Stato non funzionava, perché i commerci erano bloccati, perché le tasse erano troppo alte. E questa situazione anche Colbert, era allora l'amministratore, il ministro delle finanze, che minacciava di fare fallimento alla Francia in quel momento, a quel punto il re si vide costretto e siamo saltati più avanti, siamo già al 1789, a convocare gli stati generali, cioè il Parlamento, che però non era un Parlamento elettivo come in Gran Bretagna, era un Parlamento che rappresentava gli interessi della nazione sulla base di tre classi, i nobili, il clero e i commercianti, cioè il popolo. Capite che avendo soltanto tre rappresentazioni, non soltanto la gran parte restava esclusa, ma soprattutto a votare, non contavano i nomi dei delegati, ma contavano le classi, cioè se i nobili e il clero si mettevano d'accordo, il terzo Stato, da allora terzo Stato, era all'opposizione, ma faceva due a uno e quindi vincevano sempre gli altri. Questa situazione non poteva continuare, anche perché si sapeva quello che era successo in America e scoppiò alla fine, adesso devo farla breve, se no non arriviamo più all'unità d'Italia, scoppiò la rivoluzione, la rivoluzione francese, la rivoluzione francese che come un incendio si diffuse in tutta Europa e arrivò anche da queste parti qualche anno dopo e lo vedremo, portando a dei profondi cambiamenti, cambiamenti di carattere politico, ma anche sociale. La rivoluzione francese in Francia produsse un periodo molto, diciamo così, di tumulti, i cosiddetti anni del terrore, gli anni in cui la ghigliottina ha ammazzato decine di migliaia di nobili, del clero, eccetera, portando la situazione economica a un altro disastro, talché alla fine, e la faccio breve, la rivoluzione francese praticamente si concluse a dià degli slogan come succede sempre quando c'è una rivoluzione, alla fine salta fuori l'uomo forte e l'uomo forte in Francia forse avete già intuito chi poteva essere, Napoleone. Napoleone Bonaparte che è un generale dell'armata francese che è capace di far funzionare l'esercito e che di fatto poi alla fine, alla fine del secolo prende il potere e questa presenza di Napoleone è particolarmente importante per il Piemonte. Perché? Perché da tanti anni la Francia stava facendo guerra al Piemonte e aveva in Italia, nella parte bassa del Piemonte, un'armata che andava abbastanza male, era lì tra il Piemonte, tra gli Appennini e la Liguria continuava a occupare questo territorio ma non se ne veniva fuori. A un certo punto mettono Napoleone a comandare l'armata d'Italia, Napoleone arriva, si dimostra molto più capace, incita i suoi, conquista Genova, passa in Piemonte, vince le battaglie, mette in difensiva il re, il re di Sardegna e a quel punto scopre la rivoluzione anche da queste parti. In questo senso scoppiano anche dei moti, alcuni dei quali interessano direttamente le nostre contrade, perché quando Napoleone arrivava di solito impiantava una repubblica nei territori che conquistava ed ecco partire la storia di queste repubbliche napoleoniche, avrete sentito, la repubblica Cisalpina, la repubblica Cispadana e a un certo punto c'è stata anche la repubblica del Piemonte, addirittura poi anche un regno d'Italia. Quindi scoppiano tutte queste rivolte e ci sono dei precursori. Nella nostra zona due per esempio, Giulio Albertazzi e l'Avvocato Azzari che sono due ragazzi o poco più già laureati per carità ma molto giovani, Giuseppe Antoni Azzari e che tra 1798 e l'anno precedente il 1796 in quel periodo incitano la popolazione locale alla rivoluzione. Finisce malissimo però anche perché quando poi andava via Napoleone ritornavano quelli di prima tornano di Savoia e prendono Albertazzi Giulio che aveva fatto la rivoluzione guerreggiata ma aveva perso una battaglia all'inizio dell'Ossola dove comincia l'Ossola verso Ornavasso che viene fucilato a Pallanza e il clima era così sereno che i familiari rinunciano addirittura a recuperare il cadavere fu fucilato in Piazza Garibaldi dove c'è il municipio di Pallanza verso quella che oggi è la chiesa di San Leonardo da quelle parti lì invece Giuseppe Antoni Azzari viene beccato con delle carte compromettenti mentre nel suo studio lui era avvocato di Pallanza stava organizzando la rivolta per il giorno dopo arrivano i gendarmi lo arrestano nel sequestro del materiale non doveva essere molto furbo il Lazzari si è fatto beccare con queste carte e con l'elenco dei congiurati quindi lo portano a Novara lo processano lo ammazzano lo bruciano e addirittura spargono al vento quelli che erano dei suoi ceneri quindi vedete episodi magari queste persone possono rappresentare anche oggi i più come dire i precursori dei patrioti italiani del successivo risorgimento ma decisamente marca male per la rivoluzione però sono anche il segnale che qualcosa sta cambiando e cambia appunto le cose cambiano con Napoleone Napoleone ha uno sguardo di attenzione verso l'Italia dove non solo ci imbastisce su queste sue repubbliche ma porta delle profonde diciamo così dei profondi cambiamenti cambiamenti istituzionali la repubblica ma anche progressi progressi dal punto di vista economico progressi dal punto di vista delle comunicazioni è di quegli anni ed è merito di Napoleone la grande strada del Sempione tenuto conto che allora il Vallese era non era come oggi facente parte della confederazione elvetica ma era strada francese di passaggio viene fatta una strada che in pratica da Ginevra da Parigi porta dà la possibilità di trasportare truppe fino a Milano che era già allora il capoluoro dell'Italia settentrionale e per farlo si deve scegliere un passo alpino che deve essere reso praticabile praticamente per tutto l'anno fu scelto il Sempione e viene costruita la strada napoleonica di cui ancora oggi potete vedere qualcosa per permettere alle artiglierie di arrivare celermente appunto da Parigi a Milano questo comporta che lungo tutta la strada del Sempione Osso alla Verbano e poi giù verso la pianura lombarda si favorisce anche lo sviluppo dei trasporti quindi anche del commercio quindi anche il movimento di quelli che sono i carri le carrozze le diligenze fino ad allora la strada non c'era in poche parole fino ad allora si andava soprattutto per via Lago per andare a Milano si prendeva il battello sul lago il battello la barca sul lago si scendeva un pezzo di Ticino poi si prendevano i canali e si arrivava a Milano in quella maniera specialmente se dovevate trasportare delle merci invece grazie a Napoleone migliora questo stato questo stato di cose e direi che possiamo avviarci alla conclusione di questa rapida puntata di racconto degli anni pregresse dell'unità d'Italia arrivando a contare semplicemente che il destino delle nostre del tutto il Piemonte ma direi particolarmente di queste terre a confine tra Piemonte e Lombardia si gioca al Lombardo di Napoleone ovvero Napoleone costruisce cambia rivoluziona ma poi alla fine cade e quando cade Napoleone cadono anche tutte quelle che erano sicuramente anche le conquiste economiche le conquiste sociali che erano state proprie della rivoluzione perché con il congresso di Vienna nel 1814 ricomincia quello che era l'anziano regime cioè ritornano a essere messi al potere i sovrani precedenti quindi ritorna la famiglia Savoia per quanto riguarda il Piemonte e le nostre zone ritorna l'Austria in quello che è Milano e questo vuol dire un azzeramento della situazione precedente ma quando c'è una rivoluzione di passaggio qualcosa resta sempre il seme rimane sotterraneo e che cosa rimase dopo il 1814 cominciarono a mettersi le basi per il risorgimento una piccola quantità numericamente modesta quantità di persone ma la più sviluppata dal punto di vista intellettuale la più colta quello che aveva studiato quella che aveva anche partecipato con Napoleone alle sue guerre perché i Reduci tornano a casa e l'imperatore l'immagine dell'imperatore che pur muore nel 1821 a Sant'Egna resta scolpito bene in quello che era la memoria diciamo di chi aveva combattuto per lui e questi furono gli inizi dopo la restaurazione del congresso di Viena gli inizi dei movimenti rivoluzionari dell'Ottocento quelli ma lo vedremo settimana prossima che tra il 1821 i primi morti ad Alessandria a fine al 1861 cioè alla proclamazione del Regno d'Italia in quei 40 anni si compie il risorgimento sia con le guerre dichiarate la prima la seconda guerra di indipendenza l'impresa dei Mille sia all'inizio con tante rivolte locali che spesso vengono soffocate nel sangue ma che perpetuano quello che è la riscossa nazionale questa era diciamo questa prima fase di debutto della nostra trasmissione per quest'anno io vi ringrazio e vi do appuntamento la settimana prossima quando affronteremo il periodo post-napoleonico verso l'unità del nostro paese grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti